Ciao a tutti ragazzi, come al solito inserirò qui sotto i match per quanto riguarda tutta la serie A Sono 9 match, alcuni match ben 9 da pronosticare Metterò soprattutto qui sotto, oltre ai match, il metodo da pronosticare che è sempre il solito Che è 1-2, abbiamo visto la partita di ieri tra Sassuolo e Torino Che è stata una bella partita dove Juric è riuscito a portare 3 punti a casa Un Torino che sta dando dei ottimi segnali, sta facendo un ottimo inizio campionato Juric si porta così dei punti fondamentali, Dionisi che perde soprattutto questa partita Una partita che per i tifosi Granata era veramente importante anche per i tifosi del Sassuolo Ma quel che ha portato i 3 punti a casa è stato il buon Juric Un allenatore di grande esperienza che non ha fatto tante cose buone E che sta facendo anche a Torino tante cose buone Soprattutto per quanto riguarda la società che sta migliorando la squadra Sta dando una visione di gioco diversa da gli allenatori che ci sono stati prima in questa squadra Vi ricordo sempre di pronosticare qui sotto le partite che vi inserirò Soprattutto per quanto riguarda la Serie A Vi mando un grosso abbraccio Vi invito sempre a iscrivervi al canale, lasciare un like E lasciare qui sotto un commento sia con i pronostici Che sia di cosa ne pensate della partita di ieri tra Sassuolo e Torino Ci vediamo alla prossima, bella ragazzi